Gli esponenti della marineria di Vescar sono fortemente preoccupati per lo stato in cui versa il porto canale, con i fondali insabbiati che rendono difficoltose le operazioni e le manovre di attracco. Il presidente del Consiglio regionale, Lorenzo Sospiri, nel condividere le loro preoccupazioni, ribadisce che l'iter procedurale per la ripresa del dragaggio del porto canale è già partito. Non appena sarà disponibile il dato sulle analisi, in soli tre giorni di lavoro sarà restituita piena agibilità all'imboccatura e alla canaletta di accesso al porto per i pescherecci. Abbiamo assegnato come regione i fondi al Comune di Pescara che deve determinare un incarico che è stato assegnato per ottenere la consistenza effettivamente dei livelli di inquinamento dei fanghi che vanno dragato. Ciò permetterà poi alla nostra consulente di far ripartire l'iter per la manutenzione ordinaria del canale di entrata e di uscita del porto. Per un'attività di dragaggio più consistente e finalmente risolutiva bisognerà attendere la dimensione finale, almeno del primo lotto del porto canale, i cui lavori ricominceranno entro aprile. Però chiaramente il nostro obiettivo è quello almeno di permettere, come giustamente lamentano le associazioni e gli armatori della pesca, di permettere un'entrata e un'uscita in sicurezza dal nostro porto canale. I riflettori sono costantemente accesi sulla questione porto di Pescara, dove abbiamo in corso un cantiere di milioni di euro per la realizzazione del nuovo scalo, l'opera principe destinata a cancellare il problema dell'insabbiamento delle fondali, ha ricordato ancora il presidente Sospiri. Comprendo e hanno assolutamente ragione i nostri pescatori, i nostri armatori, che la situazione ormai si potrà da anni e anni e anni, se non decenni, abbia fiaccato la capacità di avere pazienza e hanno assolutamente ragione. Non a caso in finanziaria abbiamo anche inserito un fondo per mallevare eventuali problematiche su quelle che sono delle imprese. Però chiaramente siamo all'ultimo miglio, cioè stringiamo tutti i denti e crediamoci, e arriviamo a completare il primo lotto del molo di Levante, facciamo partire il secondo lotto, creeremo una vasca ricolmata che ci permetterebbe di dragare a fondo. Nel frattempo garantiamo una manutenzione ordinare e puntuale, come sin qui vi è stata, che permetta almeno di entrare e uscire in sicurezza.